Spazi su diversi generi musicali, ma c'è un genere che tu prediligi che preferisci? Io faccio le serenate, te l'avevo accettato in una precedente trasmissione che ho fatto con te, qualche anno fa, due anni fa, e io predileggo le canzoni di Fred Bungusto, Bruno Martini e Moduglia. Ah, quindi sei un sentimentale, un romantico, potresti benissimo, avrai cantato probabilmente anche nei nightclubs, dove questo genere musicale... Io faccio piano bar tutti gli anni, da metà giugno a metà settembre, in Liguria, Romagna e anche Sarsomaggiore, Romagna ed Emilia, quindi un po' dappertutto fai questo piano bar, la cosa piacere, quindi il tuo genere è proprio il melodico, il rock non lo canti, io sono considerato The Italian Fiscal Single, perché faccio il fiscalista, con la professione... Ah, The Italian Fiscal Single... Esatto, ho capito, bello come... Il fiscalista è il cantante italiano. Ho capito, l'importante è che non sia fiscalista, perché... No, in questo caso no, in questo caso no, in questo caso no, è Italian Fiscalista, perché tu sei commercialista, come attività fai il commercialista, e come diletto fai il cantante, Sì, però adesso è diventato quasi una professione cantante, perché si è richiesto... Sì, però se ho inciso il disco è perché... Ah beh, certo... E perché... Sì, ma non è detto che incidere un disco voglia dire che lo fai di professione, perché c'è gente... Anch'io ho fatto un disco che poi fra l'altro farò vedere, ma io non lo faccio come professione, lo faccio come professione con i girassoli... Però al piano bar d'estate lo faccio per professione... Come professione, quindi ti fai... Sì, sì, tu come commercialista ti credo che ti fai pagare, perché non c'è un commercialista che faccia le cose per niente, non esiste, è una battuta... Bene, allora andiamo a sentire questo brano... Un grande...